Ciao e benvenuti in questo nuovo video! Torniamo in questo nuovo video proprio perché mi avete chiesto, specialmente su TikTok, come potete vedere, che cosa ne pensassi di questo progetto che si chiama High Dollars. Se avete già sentito parlare di questo progetto, ma non sapete precisamente di che cosa si tratta, non temete perché in questo video farò una piccola introduzione e poi vedremo, perché ho provato questa applicazione, per vedere appunto come funziona e quindi avremo una sorta di tutorial. Ovviamente se già sai di che cosa stiamo parlando, puoi passare alla parte successiva del video. Infatti prima di realizzare questo video ho fatto tutte quante le procedure per potermi iscrivere e per poter capire come funziona. Piccolo disclaimer dovuto, non sono stato pagato per fare questo contenuto. Solitamente non utilizzo questa applicazione, l'ho scaricata semplicemente per fini divulgativi, quindi per fare questo video. E quindi non ho nessun interesse nel promuoverla. Quello che vi dirò in questo video è frutto semplicemente delle mie ricerche personali e della mia esperienza. Ma sicuramente tra di voi qualcuno non la conosce oppure vuole iniziare ad utilizzarla, quindi se avete bisogno trovate il link di video in descrizione. Ma visto che abbiamo un po' di cose da vedere, passerei direttamente al sodo. Sigla! Cos'è HiDollars? Sostanzialmente Hi è un token e questo viaggia sulla blockchain di Ethereum. Possiamo verificarne l'esistenza su questi due siti, che sicuramente già conoscerete. Uno è Etherscan e l'altro è CoinMarketCap. Da qui possiamo verificarne l'esistenza e anche il valore attuale, ma passerei un attimo sullo schermo. Allora, andando su Etherscan, vediamo qua token HiDollar, prezzo 1,37$ attualmente. Oggi è martedì 14 dicembre. Holders 1.205. Qua abbiamo, vabbè, il sito ufficiale, il contratto e vabbè. Andiamo a vedere anche su CoinMarketCap, valore 1,22$. E qua ci sono gli ultimi movimenti che possiamo, insomma, osservare. Qua possiamo vedere che il prezzo nell'ultimo periodo è salito esponenzialmente e questo sarà dovuto anche dal fatto che sostanzialmente c'è più interesse. Se andiamo a cercare su Google Trends, vediamo che cosa ci dice su HiDollars. Eccolo qua. Vedete che da inizio novembre c'è stata un'impennata di ricerche per capire che cosa è questo progetto. Il loro obiettivo sostanzialmente, almeno da quello che si capisce, è quello di fornire dei servizi finanziari. E vogliono fungere appunto da piattaforma per poter pagare sui social o comunque sulle piattaforme online. Quindi potremmo riassumere dicendo che vogliono creare una blockchain un po' più veloce di quella di Ethereum. Come possiamo vedere dal loro sito, continuando, insomma, la nostra ricerca. Qua ci porta il prezzo 1,41$. Novità, acquista HiDollars con carta di credito. Quindi da oggi è possibile anche acquistarla con carta di credito. Andiamo a vedere che cosa dicono. Let's get high together. Stiamo sviluppando le tecnologie più scalabili e inclusive al mondo per massimizzare il potenziale umano. Costruito sulla blockchain e alimentato dal nostro token di appartenenza, la HiDollar dice high al futuro dell'identità, del denaro e di internet. Opportunità illimitate, esperienza senza intoppi, team esperto e collaudato. Bitcoin.com, Crypto.com, Morgan Stanley, Credit Suisse, Alibaba. La strada verso un miliardo di membri, questo è solo l'inizio. Numero attuali di membri 2.3664. Superare i limiti dell'innovazione. Il gruppo, qua parla appunto, Hi è gestito alla Hi Foundation. Ok, più 80 membri del team, ma non ci dice precisamente chi sono i membri del team. Un grande progetto ha sempre un grande team. Quindi, prendiamo questo assunto e andiamo a verificare se effettivamente chi c'è dietro a questo progetto ha, diciamo così, le competenze e la credibilità per poterlo portare avanti. Ho trovato questo articolo interessante in cui veniva menzionato HiDollars e in questo articolo sono riuscito a reperire delle informazioni per quanto riguarda il team. E quindi qui nella parte del team possiamo vedere appunto che la leadership è di Sam Rack, former CMO a Crypto.com, Stefan Rust, Pierrick Jamot. Quindi possiamo verificare anche su LinkedIn per capire appunto se quello che abbiamo visto fino ad ora è vero. Questo qua è il profilo di appunto il co-founder di Hi. E vediamo che nell'esperienza effettivamente è stato CMO a Crypto.com. Verifichiamo anche l'altro. Stefan Rust. E anche qui appunto co-founder advisor. E anche in altri progetti. Quindi anche questo profilo mi sembra attendibile. Facciamo l'ultimo check su Pierre. Ed eccolo qua. Hong Kong Astronaut. Ok. Una volta che abbiamo verificato insomma che il team sia affidabile, o comunque quello che viene menzionato sul sito è corretto, possiamo procedere. Hi sappiamo che è gestito dalla Hi Foundation, che è un'organizzazione no profit che ha sete a Singapore. Chissà come mai. In questa sezione del sito di Hi Dollars questa dice che è stato menzionato da diverse testate giornalistiche online o comunque dei giornali online. Come è descritto su Cointelegraph, Market Watch, Yahoo Finance, Benzinga. Allora andiamo a vedere anche su questi siti se viene menzionato Hi Dollars. Quindi iniziamo con Cointelegraph. Eccoci su Cointelegraph. Facciamo la nostra ricerca. Hi Dollars. Nessuna. Solo Hi. Achille Lauro. Bitcoin 47. Causa effetto. Rifkin. Non mi sembra che ci sia nessun riferimento a Hi. Come avete potuto vedere andando su Cointelegraph non è risultato nulla. Quindi questa è una cosa un po' strana. O forse non riesco a trovarlo io. L'altro che dicevano è su Market Watch. Andiamo sul sito ufficiale di Market Watch. E andiamo a fare la nostra ricerca. Hi Dollars. Anche in questo sito non c'è nulla che parla di Hi. Andiamo semplicemente Hi. No. Anche qui non c'è nulla. Su Market Watch anche in questo caso nessuna traccia. Strano. Anche questo. Su Yahoo però finalmente ho trovato un articolo. E quindi andiamo a vedere un po' come ne parlano. Qui in effetti su Yahoo Finance sono menzionati. Hai una fintech senza scopo di lucro che colme il diario tra fintech tradizionale e cripto. Abilità di prelevi di Hi Dollars eccetera 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 eccetera. Come funziona Hi Dollars? In buona sostanza il meccanismo è che ogni giorno compie un'azione e loro ti danno un reward ovvero un Hi Dollar. Quest'azione che ti viene richiesta è semplicemente rispondere a una domanda. E qua la situazione può essere già un po' più controversa. E vedremo tra poco perché. Per partecipare basta avere un account Telegram oppure Whatsapp. È possibile anche utilizzare direttamente l'app. Però il mio consiglio è quello di utilizzare il bot tramite Telegram. E successivamente accedere all'app. Oltre a questo Hi Dollar che puoi guadagnare rispondendo a una domanda quotidianamente. C'è un'altra cosa molto interessante. Infatti puoi guadagnare il 50% di quello che guadagnano le persone che si sono iscritte tramite il tuo link. Comunque tramite il tuo codice invito. Sia quelli diretti che quelli indiretti. E questo lo puoi fare su un numero infinito di livelli. Ancora una volta è uno schema Ponzi? Non direi che è uno schema Ponzi per diversi motivi. Questo qua diciamo così che può essere descritto come marketing multilivello. Sostanzialmente affiliazione. Non è un Ponzi perché non c'è un investimento da fare se non quello dei vostri dati. E quindi la domanda è che cosa ci guadagna Hi? Bella domanda. E ci sono un paio di risposte che mi vengono in mente così a volo. Il primo è che stanno finalmente immettendo il loro token nel mercato. E quindi così si stanno facendo pubblicità. Gli utenti si iscrivono alla piattaforma. Visto che gli utenti si iscrivono alla piattaforma potrebbero commercializzare i dati. Questo potrebbe essere un problema. Sicuramente. Che tipo di dati? Innanzitutto c'è bisogno di fare comunque la verifica dell'identità. E questo qua è una cosa. Poi abbiamo anche delle domande quotidiane alle quali dovrete rispondere quotidianamente. Non sono delle domande molto personali. Però anche queste preferenze potrebbero essere commercializzate. Insomma se uno volesse poi essere. Le domande che ti possono fare solitamente possono variare. Ma sono del tipo... Che tipo di cibo preferisci? Che insomma non è una domanda così invasiva. Però ovviamente sta a voi scegliere il grado di privacy che volete adottare. Quindi se continuare ad utilizzarla o iniziare ad utilizzarla o meno. Altro punto interessante che va chiarito è che i token potrete prelevarli, comunque cambiarli e monetizzarli soltanto fra un anno. Quindi attualmente non puoi ritirarli. Quindi mi direi eh ma se in futuro il valore cresce? Eh ok ma se in futuro il valore crolla? Perché potrebbero innestarsi diversi meccanismi. Se in futuro il valore cresce e uscite il prezzo è alto ci avrete guadagnato. Se il valore scende avrete perso tempo. Lo scenario appunto che quando si potrà vendere tutti quanti inizieranno a vendere è probabile che il prezzo in quel momento crollerà. Quindi poi starà a voi valutare la situazione. Come ci si scrive a High Dollars? Come vi avevo detto possiamo scegliere di utilizzare Telegram o Whatsapp. Una cosa sulla quale dovete fare attenzione è che bisogna fare la verifica dei documenti. E questo è essenziale se volete insomma poi ritirare successivamente i soldi. Se non verificate i documenti quando potrete venderli i token svaniranno. Quindi non saranno più disponibili. Quindi se avete deciso di utilizzarla avvisate sempre anche le persone a cui mandate il vostro invito. Che è fondamentale. A questo punto passerei alla registrazione. Registriamoci gratuitamente. Lo facciamo tramite Telegram in questo caso. Quindi questo qua è il bot. Dobbiamo cliccare Start qui. E inizia. Welcome to High. Vediamo il... Selezioniamo il linguaggio italiano. Lingua impostata correttamente. Fai clic sul pulsante in basso per condividere il proprio numero di telefono con High. Come vuoi che ti chiami. Questo era il tuo nickname unico. Piacere di conoscerti. Per una maggiore sicurezza ti consigliamo di attivare la biometria e il codice di accesso per la tua app. Utilizzando i nostri termini e condizioni. Adoriamo dare ricompense. Iniziamo cliccando sui clienti di ricompense giornaliera. Ecco qua. Sei il membro numero 2383909 di High. Ottieni un High Dollars al giorno rispondendo alla nostra domanda quotidiana. Ecco la domanda di oggi. Guadagna la tua ricompensa rispondendo a questa domanda. Come sei venuto a conoscenza di High? Raccomandazione di un amico? Articolo, video oppure altro. Altro. Fantastica appena guadagnata la tua ricompensa giornaliera. Guadagna 0,5 extra ai dollars ogni giorno per ogni amico che invidi con il tuo link di iscrizione unico. Acquista con la carta eccetera eccetera eccetera. Questo qua è l'invito che vi copio e che vi metto in descrizione. Andiamo sulla web app a questo punto. E quindi da qui andiamo a verificare quelli che sono i documenti. Parte fondamentale. Quindi andiamo su verifica e procediamo con la verifica. Questa qua si può fare tramite telefono. scansionando questo QR code oppure copiando il link. Ovviamente in questo caso non vi farò vedere tutte quante le istruzioni per poterlo fare perché bisogna seguire semplicemente i passaggi che vengono richiesti ma le cose fondamentali ve l'ho dette. Per ricevere la verifica dei documenti potrebbero volerci 24-48 ore. Vediamo un attimo un paio di fat di High. Domande un po' più interessanti come qualità di personali devo fornire. Ovviamente bisogna fare il Know Your Customer, KYC. Quanti anni devo avere per diventare membro? I membri devono avere almeno 18 anni secondo i nostri termini di servizio. Posso comprare qualsiasi cripto con la carta? In questo momento i membri possono soltanto comprare High Dollars. Ma presto saranno supportate anche altre cripto. Quindi facciamo una chiusura degna di questo video. High Dollars è uno scam? La potete utilizzare? Non la potete utilizzare? Beh, ovviamente in base a quello che ci siamo detti vi sarete potuti fare un'idea più precisa di come funziona il progetto. Dal mio punto di vista non è uno scam. Dipende tutto da quello che succederà in futuro e in questo momento non lo possiamo sapere. Spero che questo video possa esservi stato utile. Mi raccomando di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di attivare la campanella per non perdervi tutti quanti i video inerenti le cripto e i progetti. Quindi se avete deciso di utilizzare questa applicazione trovate il link di invito in descrizione e tutti quanti i link di riferimento. Come avete visto ultimamente sto rispondendo a tutte le domande che arrivano dai social inerentemente ai progetti inerentemente. Quindi se avete delle domande fatemele qui sotto nei commenti che le utilizzerò per i prossimi video per rispondervi sui progetti che più preferite. Detto ciò, lascia un like e metti follow per altri video.